No! No! Che c'è? C'è se fri... Stai friggendo la pizza, la pizza mo! Questo disco volante è venuto chissà da quale pianeta! È francese! La cosa che vi voglio dire, lei è francese, poi si lamentano e dice no, i francesi stanno dietro di noi con la cucina, che è uscita la classifica, che noi siamo primi e i francesi sono nonni, tipo, e si lamentano anche! Guardate che cosa si fa! Guardi, quando uno fa in morta a galla, cos'è? 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 La pizza lo mette anche sotto! Una volta l'ha fatta anche la signora degli Oscar! Ma poi dovete vederla alla fine! Aspettate, perché alla fine... Cioè, io l'ho intravisto, non ho avuto il coraggio all'inizio, adesso lo vedrò insieme con voi, perché sarà una cosa... Ma poi è bello questo... Che cos'è? Ma quell'olio cos'è? Ma non ho capito! Ma poi una pizza col salame, prosciutto... No, non girare! Non girare! Non girare niente, non ti preoccupare, tienila là! Eh, bravo, mettila sotto! Affoghiamo questa pizza, tanto che ci interessa a noi! No, non girare! Eh, perfetto! Sì, ha fatto la mezzaluna, ha fatto! Va bene! Sofficini, findus, sì! L'imbrecazione che c'è in te! Non è... Perché figuriamoci se qualcuno può sorridere con questa cosa qua! Ok, la vogliamo finire, credi? Ah, bello! Bello l'imbiattamento, me... Me piace l'imbiattazione, come dice Chef Ruff! Perfetto! Guardate, vedete? Questa è la... Lei è la pastassina... La pizzassina francese! Vedete? Prima frigge... E poi con... Tampona... Tampona... Tampona tutto, come noi ci tamponiamo sudore... I sudori freddi quando vediamo queste... Queste cose... Brava! Brava! Scottex, la pizza, che dite? Fatta la battuta! E beh, perché qua bisogna ridere per non piangere, insomma! Ah, ma quella roba bianca... Ah! Vedete quella roba bianca ai lati? Sì, si è azzeccato lo scottex! Bellissimo questa cosa! E ditelo... Lo mangiamo! La signora purtroppo ha perso tutta la... Cioè, la signora... Mangiando perché... Lei, signora, mangia tutto! Digerisce anche le pietre! Una volta mangiate le pietre, ho caduto tutti i denti! Signora, poveretta, purtroppo non... Non può più! È contenta, signora! Che dite? È buono! Colesterolo come va?